No, niente. Allora, abbiamo... No, non ti puoi rifiutare. Non ti puoi rifiutare, eh? Vi darai esempio. Allora, chi c'è più? Chi c'è più? Mi chiamo? Mi chiamo? Non mi chiamò di cavallo. Valeria, Silvia. Mirjana, Roberta e Astrid. E i maschi? E questi? Ma che maschi è un mano? Alessio? Il mio mano? Alessio, Mario, Francesco, Catretta. E beh, è una delizia. Vai, Mario, vai, vai. Quattro? 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 Ehm... Gerardo? Quattro? Quattro? Un po' GERARDO? Un po' Buon mercato